Il Policlinico Diffuso vira verso la Fondazione Policlinico. Questa è la proposta uscita dal primo tavolo tecnico convocato dall'assessore Ruggero Razza. C'erano i deputati ennesi e per la provincia di Caltanissetta Nuccio Di Paola e Chetti Damante. Nuccio Di Paola nel proseguo è stato fondamentale per l'incontro. C'era il presidente del consorzio universitario, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, insieme al vicario del vescovo padre Onofrio Castelli. In Soldoni la proposta arrivata dal Razza è stata quella di costituire una fondazione come quella del Policlinico Gemelli o del San Raffaele Giglio di Cefalù. I partecipanti si sono dati un mese di tempo per la prossima riunione, infatti è stata fissata il 21 di aprile. Intanto il deputato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ha proposto lo studio del disegno di legge da presentare in aula. Se i tempi saranno accelerati potrebbe anche trovare spazio nei rivoli della finanziaria. Non si conoscono altri dettagli della proposta perché in realtà pare non ce ne siano stati. Infatti il tempo è stato dato proprio per lo studio delle modalità.